Un documentario, nello specifico il titolo è Volontè, l'uomo dai mille volti, un documentario come avrete detto, ovvero un attore, ma non solo, uno degli attori più importanti della storia del cinema italiano. Giustamente questo articolo su My Movies inizia con un evento al Festival di Cannes del 72, in cui la giuria ha segnato un ex-equo a Il Caso Mattei di Rosi e La classe operaia va in paradiso di Petri e entrambi i film avevano protagonista già Maria Volontè, quindi già questo diciamo ci fa un po' capire. È una roba, Volontè, l'uomo dai mille volti è stato presentato alla recentissima Festival del Cinema di Venezia, Piennale Cinema 2024, quindi è proprio fresco fresco e arriverà il cinema lunedì, martedì e mercoledì, quindi è un film evento esattamente il 23-24. e il 25 settembre. Regista e sceneggiatore Francesco Zippel, che già si è occupato di altri documentari, uno per esempio su Sergio Leone, è un documentario molto classic, niente di particolarmente innovativo dal punto di vista della forma documentario, è un racconto della vita ma soprattutto anche proprio del mestiere di volontè, della modalità con cui lui affrontava il mestiere dell'attore che nel suo caso si andava a fondere in maniera molto vicina ed evidente con anche le sue credenze, i suoi valori. Il suo corpo, proprio. Non solo il suo corpo, proprio i suoi valori. Lui è evidente come lui facesse delle scelte professionali senza fare sconti, ecco, sempre seguendo la propria idea di mondo, i propri valori. L'attitudine, anche il poster che rende mosaico il volto, i mille volti di Gianmaria. Un po' bamiano questa roba. Sì, più stile Obey. rende anche molto bene, oltre alla classicità di un documentario, tra l'altro prodotto dalla RAI, quindi con accesso alle teche RAI, tra l'altro una qualità di immagini anche se molto molto antiche, anche superotto, ma una qualità di immagine veramente molto molto preziosa e quindi già soltanto questo motivo per andare a vedere l'ora e 37 minuti di volontè l'uomo dai mille volti. Probabilmente ci sarà in futuro un passaggio televisivo, però chi è Gianmaria Volontè è banalmente l'unico attore a cui hanno dedicato una scuola di cinema, perché il Centro Sperimentale di Cinematografia Nazionale non è intitolato a nessun attore. C'è la Silvio è un amico, ma quella è l'Accademia di Arte Drammatica e non è soltanto di cinema. La scuola Volontè è anche una scuola che fa scattare in mente chi la conosce anche un certo tipo di istruzione, c'è un certo tipo anche di valore dell'insegnare il cinema a scuola e insomma intitolare una scuola di cinema, una scuola aperta, a prezzi popolari se non sbaglio, se non addirittura gratuita, a differenza del CSC che ha il Centro Sperimentale che ha un numero chiuso, si fanno il concorso. Insomma, sono due modi differenti e chiamarla proprio Volontè racconta anche chi era Gianmaria Volontè. Gianmaria Volontè viene raccontato in maniera veramente molto ordinata, molto lineare, da Zippel attraverso anche la risonanza con diverse persone che l'hanno conosciuto perché sono state figlie. Sì, sua figlia e la sua ultima compagna. Ma anche colleghi, colleghe, ammiratori perché immagino che non tutti i lavori di Gianmaria Volontè abbiano incrociato Gifuni, Lagolino, Maestra Andrea, Marco Bellocchio, sì, però appunto Favino, l'onipresente Favino. E devo dire che i tanti volti di Volontè, ma anche i volti di questi personaggi e personaggi, attori, attrici, artiste del presente, ogni tanto c'è il retrogusto del sì, ok, lui faceva queste cose, le faceva per questo motivo. È un po' questo, devo dire che... Che è successo nel mentre? Forse la cosa che è vero, che si nota di più, è quanto stride l'impegno e anche la forza espressiva di questo attore con alcuni, diciamo, con un po' il panorama attuale. Ora, nello specifico, per esempio, Favino è uno che magari anche a volte si è speso per delle cose, ha detto anche delle cose importanti, interessanti e sicuramente non è uno, diciamo, che ha poca forza espressiva, idem per Mastandrea. Però ecco, diciamo che il confronto forse anche con il rigore di Volontè è un po' stridente. Io devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che leggo in una recensione che ti fa venire un po' voglia di recuperare le cose di Volontè, che sicuramente sono nominalmente celebri, ma non penso che tutti quanti abbiano effettivamente poi visto questi film, perché sono anche film di un certo tipo, cioè sono film comunque non di intrattenimento, sono film che prevedono un'attenzione, un'attenzione forte da parte dello spettatore o della spettatrice e quindi forse sarebbe il caso magari di fare un piccolo recupero, no? Questi prodotti sono sicuramente, questi documentari, anche questi, i saggi che abbiamo spesso raccontato della collana Eiga, sono dei trampolini, servono per saltarci e giocarci sopra, ma poi dal trampolino devi scendere e poi scendere facendo un ulteriore salto oppure scendendo piano piano e tornando alla tua vita normale. Questi film servono proprio per darti anche un pochino l'assaggio di quello che è la storia di questi artisti. È molto interessante per chi invece conosce Volontè il rapporto che c'era con le persone che lo hanno visto crescere, per esempio Margherita Evontrotta, racconta in maniera molto interessante un parallelo di vita proprio. L'attivismo di Gian Maria Volontè aveva una radice, una radice molto dolorosa, il padre, la figura del padre, non vi spoilerò troppo perché appunto anche grazie alla riservatezza... Ma anche per posizionamento, per far notare a volontè per primo la differenza con... E Margherita Evontrotta, giustamente, nata in Germania, a Berlino nel 1942, sapeva benissimo che tantissime altre persone, tantissimi altri genitori, tantissimi altri figli avevano un rapporto molto simile, soltanto che in Germania erano molto più i nazisti ad essere numericamente queste situazioni di padre e figlio. Anche i nazisti convinti, no? Cioè non per... Lei dice così, essendo nato lì è chiaro che l'audience era molto più convinta magari di come potevano essere alcuni fascisti in Italia, soprattutto i più piccoli, i più giovani che forse erano più che altro stati presi nella rete un po' a casaccio. Il padre di Volontè non era proprio un passante del fascismo, però appunto proprio questo è l'innesco di un albero molto forte di potenza anche attoriale ma anche di impegno film, di impegno politico. Se avete la possibilità, 23, 24, 25, quindi la prossima settimana nei cinema trovate questo documentario, Volontè è l'uomo dai mille volti, può essere un'occasione per riscoprire o riapprofondire la vita di questo grande attore italiano. Se invece volete voi inserire un titolo nelle cose da vedere assolutamente di Gian Maria Volontè potete scrivere al 351-5241-101, ne parliamo qui in diretta, o se state vedendo questa video recensione su YouTube scrivetela nei commenti e così usiamo anche questo spazio di interazione, ma adesso prima scelta musicale della nostra ospite Giovanna Badalassi.